La lista civica La Tua Fano sta preparando un volantinaggio per domani, su quale tema e dove sarete? Domani mattina saremo lungo Corso Matteotti con gli iscritti La Tua Fano a fare volantinaggio per sostenere la battaglia sui referendum affinché l'acqua rimanga bene pubblico e quindi rimanga gestita secondo quelli che sono i criteri della pubblicità è un'iniziativa che poi seguirà anche altre iniziative che faremo sul territorio fanese appunto quelle che vedrà subito un incontro martedì prossimo a Fenile e poi a seguire in tutti gli altri quartieri della città per sensibilizzare la gente ad andare a votare e allo stesso tempo per parlare anche di altri problemi della città Assessore perché è importante partecipare a queste iniziative, organizzarle da una parte e partecipare dall'altra? È importante, noi abbiamo aderito sin dall'inizio, riconosciamo, l'abbiamo sempre riconosciuto a bene comune l'iniziativa ma noi abbiamo aderito sin dall'inizio già da alcuni anni e da sempre è importante perché è un bene veramente comune che va sostenuto e va difeso e bisogna crederci e portare avanti questa battaglia fino a che al referendum non si possa avere la meglio Diamo gli orari, voi sarete in piazza sabato 16 aprile la mattina Alle ore 10 Si inaugura domani la mostra su Pandolfo III Malatesti, una figura che è stata importante per Fano ma non solo Sì è vero, non solo per Fano ma anche per Brescia, Bergamo, Licco E i bresciani ci tengono in modo particolare a recuperare a questa figura un ruolo che non è soltanto di uomo d'arme ma anche di grande signore che ha saputo attorniarsi arricchire la sua corte di pittori, economisti, intellettuali ed ha trasformato, dicono i bresciani Brescia da città del 300 quindi medievale in una città umanistica prerinascimentale Finita la dinastia dei Malatesti possiamo dire che Fano ha perso forse quel ruolo di importanza nazionale che ricopriva? Sì senz'altro, importanza nazionale un po' troppo però di un'importanza senz'altro sovraregionale E questa stessa sorte toccata a Fano è toccata anche a Brescia che è finita sotto l'egemonia veneziana La mostra di domani alle 12.30 è stata curata dalla storica Anna Falcioni e dal direttore dell'archivio di Stato Antonello De Berardinis Poi nel pomeriggio, sempre domani alle 15, ci sarà il convegno la fase fanese del convegno che era iniziato già ieri a Brescia Cosa si potrà vedere in mostra? In mostra, diviso in 5 sezioni, c'è il già famoso corsetto poi ci sono alcuni importanti codici malatestiani quindi ci sarà la spada che è già stata messa in mostra 30 anni fa e che probabilmente fu di Pandolfo III Malatesta e poi ci sono due sezioni di dipinti e di ceramiche che stanno a testimoniare la ricchezza e l'eleganza della corte di Pandolfo Grazie!